6 settembre 1993, a distanza di 23 anni, si ricorda quel momento tragico per il territorio crotonese, quindi lo spegnimento dei fuochi dell'Enichem. È stato un evento tragico che ha segnato la storia della nostra città e che continua ancora a segnarla, perché pare che Crotone sia ferma ancora 20 anni fa. Si credeva che quello potesse essere un periodo facilmente superabile, in realtà no, perché avevamo le conseguenze in temi di soccupazione e povertà e non riusciamo ancora a capire quale potrebbe essere il nostro futuro, al momento che quello industriale è un capitolo messo da parte. Dopo 23 anni dalla chiusura delle fabbriche, quindi quando arriva il momento di spegnere i fuochi, i famosi fuochi dell'Enichem, qualcosa cambia per questo territorio? Diciamo che tutto sommato, dopo l'industrializzazione, Crotone non ha avuto un ricambio a carattere produttivo. In questo effettivamente hanno sbagliato tutte le amministrazioni che sono succedute, hanno lasciato una bonifica che ancora oggi se ne parla, non si sa se effettivamente questo territorio quando sarà bonificato e quali potrebbero essere il potenziale sviluppo di questo territorio. Sicuramente si parla da anni di turismo, si parla da anni di utilizzare il porto, ma certamente anche il porto che va fatto l'abbassamento della quota, quindi il dragaggio, perché non possono entrare in ambito di una certa portata. Quindi Crotone ancora oggi è ferma, è in una fase di stallo che non sappiamo chi sarà in grado effettivamente di scuotere questa situazione.